Continuando appunto su questo filone dell'Europa, abbiamo parlato di utopia e di come questa utopia realizzabile dell'arcipelago sia caduta, questa utopia che si era creata diciamo all'interno di questo spazio temporale del secondo dopoguerra e adesso siamo di fronte al fatto che il liberalismo, il liberismo economico, questa filosofia della storia del progresso è incapace di disegnare un futuro davanti a sé fondamentalmente. Possiamo dire che queste ondate reazionarie legate a queste forme del populismo occidentale siano in un certo senso colonizzando questo tempo futuro dell'utopia in Europa, faccio un esempio concreto, ieri Salvini chiamava alla Lega delle Leghe Europee dicendo che avrebbe finalmente emancipato tutto il popolo contro le elite internazionali e contro i mercati finanziari che dominano la sovranità degli stati in azione. E se diciamo diamo una risposta affermativa a questo investimento temporale che stanno facendo i populismi contemporanei, che tipo di tempo si immaginano? È un tempo futuro che però sta nel passato, per collegarci alla questione di prima, quindi ad una crisi degli istituti contemporanei del welfare, delle identità culturali, sociali, eccetera, si risponde con delle vecchie formule perché vogliamo mantenere dei privilegi e perché ovviamente vogliamo dare anche un minimo di certezze esistenziali, oltre che sicurezza politica e sociale, ai cittadini europei? Allora, guardate, molto schematicamente, cerchiamo di ragionare, no? Perché? Allora, l'Europa, tutti quelli che appunto avevano sali in zucca, sapevano che l'unità politica europea era l'unità politica dei vinti, dei vinti, perché se non partiamo da questo presupposto non si può capire niente, è l'unità politica dei vinti, tutta Europa esce da quel conflitto che l'umanità non aveva mai conosciuto in quei termini, della seconda guerra mondiale, vinta, non è l'unità politica dei vincitori, è l'unità politica dei vinti, quindi che assume tutta la modestia di questa posizione, comincia, piano, da un punto di vista economico, piena di sospetti tra le diverse potenze, perché se andate a vedervi quello che diceva Schumann, Schumann, dei tedeschi, nel momento stesso che gettava le basi, si parla, Schumann, uno dei fondatori, dei padri dell'unità europea, la terra va a leggere quello che diceva dei tedeschi, quando è sospetto tremendo dei tedeschi, che è continuato fino alla caduta del muro, vi ricordate Andreotti? Speriamo che non cada il muro di Berlino, per non parlare di De Gaulle, per non parlare di Mitterrand, alla vigilia del crollo definitivo della DDR e dell'impero sovietico, sono andati, mi pare, Mitterrand, mi pare che si è andato a visitare un ecco o qualche altro dello Stato democratico dell'est tedesco una settimana prima per dargli il suo sostegno all'idea di riforma, robe del genere. Quindi, per carità, era un'Europa piena, erano nazioni europee, fin dall'inizio, pieni di sospetti reciprochi, di debolezze, eccetera, perché era l'Europa dei vinti. Da questo bisogna partire. Quindi si trattava di costruire una unità politica a partire da una collocazione internazionale dell'Europa che non aveva nulla a che fare con la collocazione dell'Europa di un secolo prima. L'Europa, un secolo prima, era ancora il centro del mondo. Certo, c'erano gli Stati Uniti che stavano crescendo e tutti capivano che sarebbero diventati loro, c'era la Russia che stava crescendo, eccetera, eccetera, dico anche prima della rivoluzione dell'ottobre, ma l'Europa ancora, se prendete tutti i dati, prodotto interno lordo, abitanti, eccetera, eccetera, è ancora il centro del mondo. Dopo, dopo guerra, si inizia a fare un'Europa che deve mantenere una sua potenza economica, culturale e politica all'interno di un mondo che sa che non è più il suo, come era stato per secoli e secoli. No, perché la globalizzazione è una globalizzazione europea, è stata l'Europa, è stato lo spirito europeo, eccetera, eccetera. Bene, quindi bisogna sapere questo, va bene? Su questo, bene. Poteva avere un grande futuro questa idea, perché? Perché l'Europa, e ancora adesso, sempre meno, ma ancora adesso, nel globo, se teniamo conto il globo, è quella, è quella parte del globo in cui alcune idee, diciamo brevemente, di democrazia, alcune idee riguardanti i diritti sociali, ma io direi soprattutto, questa idea fondamentale, no? Che il conflitto, il conflitto tra le diverse parti che compongono la società, non è qualcosa di distruttivo e negativo, ma è qualcosa di produttivo, è qualcosa che fa sviluppare, intelligentemente, menti, culture, e anche forse alla fine l'economia. Quest'idea, badate, è proprio europea, è soltanto europea. Che il conflitto non sia qualcosa di negativo, è la nostra, hai capito? Per cui il fatto che ci si incontra, ci si scontra, eccetera, eccetera, perché dovrebbe essere distruttivo? E in tutte le altre civiltà si pensa così. Quindi l'Europa era questo, e questa idea del conflitto si lega, secondo me, strettamente all'idea di democrazia, no? Da Machiavelli a Spinoza, questo è il conflitto. Perché Spinoza è repubblicano? Andate via le esiste, perché è repubblicano? Perché nella Repubblica c'è, ci sono le parti, le parti che confliggono, e che pure, attraverso, non malgrado, ma attraverso questo conflitto, giungono a riconoscersi. E questo è bello, e questo è l'unico regime che permette questo. Non certo la monarchia assoluta, non certo la dittatura, solo la democrazia permette questo, quando è pensata e organizzata come si deve. Questo doveva essere l'Europa, questa idea doveva essere l'Europa, e questa idea avrebbe fatto dell'Europa ancora. Non dico il centro, che non poteva più esserlo politico, militare, economico, ma il centro culturale del globo. Culturale del globo, questa era la sua grande idea. E noi sappiamo che l'elemento culturale ideale non è sovrastruttura, non è sovrastruttura, pure Marx lo sapeva, è un amica materialismo volgare il suo. Le idee muovono, le utopie muovono il mondo, effettualmente, non è che siamo sovrastruttura, sono struttura del movimento, della dialettica delle cose. Ecco, questo doveva essere l'Europa, e questo dobbiamo cercare che sia ancora. Ma certo, tutte le cose che abbiamo detto, gli errori commessi, le ignoranze dimostrate da tutti i movimenti di sinistra, tutti in una forma o nell'altra, tutti, perché c'è stata una perfetta complicità nel non seguire queste dialettiche dinamiche come si doveva, oggi hanno portato obiettivamente ad una situazione in cui parrebbe l'egemonia, per usare questa vecchia parola, essere passata dalla parte dei populisti. Però, però, cosa potranno fare costoro? Allora, dobbiamo essere pronti a cogliere l'occasione, come dire, per scalzarli, direi, no? Allora, uno, primo, dal punto di vista economico non possono fare nulla, perché dal punto di vista economico, cioè della soddisfazione di alcune richieste ed esigenze sacrosante di tipo sociale ed economico, soltanto un'unità politica europea potrà giungere a soddisfarle. Quindi, in una situazione europea come quella attuale di tutti contro tutti, niente delle cose che attualmente loro agitano e sulle quali chiacchiano non potrà trovare soddisfazione, assolutamente niente, è chiaro? Quindi, attenzione, perché l'unica arma che loro hanno in mano, oltre le promesse, l'occupazione magari di spazi mediatici, eccetera, l'unica arma che hanno in mano è la paura per i fenomeni evidenti di mutamento nella composizione sociale, di immigrazione, eccetera. Questa è la loro arma che hanno in mano e che sta funzionando un po' in tutti i paesi che prima ricordavamo e, ahimè, anche nel nostro. Però, è chiaro che è un'arma molto spuntata, molto spuntata. non sto facendo discorsi prima tu mi citavi il mio articolo, appunto, non faccio discorsi, non faccio qui, non ripeto qui discorsi magari troppo, tra virgolette, nobili, ma facciamo un discorso più terra a terra. È evidente che se l'Europa vorrà continuare a esistere, una politica dell'immigrazione che non sia quella di tenere le navi a largo o dovrà farla. Dovrà farla. Perché? Ma semplicemente per il fatto che se non la fa nel giro di tre generazioni non c'è più Europa. Molto semplice. Quindi, se vogliamo mantenere aperte le fabbriche, i servizi, eccetera, eccetera, una politica dell'immigrazione dovrà essere fatta. Se viene fatta una politica dell'immigrazione, la cosa, la posizione dei populisti alla fine si sgonfia. Se non viene fatta la politica dell'immigrazione ci sarà un casino drammaticissimo perché c'è un miliardo di persone che preme in tutto il territorio i subsahariani e l'Europa ha disfatto la sacca mediterranea di metabolismo. Quindi, o ci sarà politica di immigrazione e la posizione populista su questo tema verrà più o meno a svuotarsi o non c'è e allora c'è un casino drammaticissimo che nessuno saprà governare e su quale vedremo chi ha filo da filare. Ma certamente non potrà essere governato semplicemente mantenendo per una settimana una nave a largo o barzellette tragiche di questo genere. quindi su quel piano lì i tempi della della del redderazione sono secondo me relativamente brevi brevissimi sul piano economico e sociale perché o c'è una intesa europea che in qualche modo bene o male può essere condotta soltanto può essere guidata soltanto dalla Merkel e da Macron perché soltanto loro hanno il potere oggi di guidare un processo europeo che permetta qualche risultato dal punto di vista economico interno oppure tutte ma tutte radicalmente tutte le promesse e le cose che costoro ci hanno raccontato da noi e anche in altri paesi crollano e allora attenzione cioè è vero che vi è questa deriva ma questa deriva è una deriva ancora assolutamente controbattibile assolutamente controbattibile prima che cosa prima che qualunque cosa avvenga sia mutata la forma mentis di tutti i nostri concittadini quindi questa è una questione che riguarda anche l'azione che siamo in grado di fare ciascuno di noi in tutte le aree i settori in cui opera perché ripeto è chiaro che i tempi di verifica soprattutto da noi in Italia sono relativamente brevi ma altrettanto è chiaro che se non c'è nessuna voce di opposizione di nessun genere a nessun livello quelle idee che questi conculcano diventano formamenti allora basta allora che si realizzi qualcosa non si realizzi qualcosa non cambia niente perché ormai tu ti sei identificato a prescindere dai risultati con quell'idea politica con quella formazione politica questo avviene spesso nella storia sapete questo avviene spesso nella storia a un certo momento non si commisura più l'adesione a una posizione politica per i risultati che ottiene ma semplicemente perché o non c'è alternativa oppure tu sei diventato di quella famiglia e prima di lasciare il padre e la madre ce ne vuole quindi Grazie a tutti